Introduzione, benvenuti a questo video dove esploreremo le fondamentali differenze tra SEO e SEM e come entrambi possono aiutare a migliorare la visibilità e il posizionamento di un sito web sui motori di ricerca. Se siete nuovi al mondo del marketing digitale, questa guida vi aiuterà a comprendere meglio queste due strategie e come possono essere utilizzate in modo complementare per ottenere risultati ottimali. SEO, Search Engine Optimization, cominciamo con SEO, che sta per Search Engine Optimization, ovvero ottimizzazione per i motori di ricerca. L'obiettivo principale del SEO è aumentare la qualità e la quantità del traffico organico di un sito web attraverso i risultati dei motori di ricerca. Ciò significa migliorare la posizione del sito web nei risultati di ricerca senza dover pagare per gli annunci. Le pratiche di SEO coinvolgono una serie di strategie tattiche mirate a rendere il sito web più accattivante e pertinente agli occhi dei motori di ricerca. Alcuni degli elementi chiavi del SEO includono Ricerca delle parole chiave Identificare le parole e le frasi più rilevanti che gli utenti digitano nei motori di ricerca per trovare contenuti correlati al vostro settore o attività. Ottimizzazione dei contenuti Creare contenuti di alta qualità e pertinenti, inclusi testi, immagini e video, con l'uso strategico delle parole chiave identificate. Ottimizzazione tecnica Migliorare l'architettura e le prestazioni del sito web, come la velocità di caricamento e l'ottimizzazione per dispositivi mobili. Link building Aumentare l'autorevolezza del sito web ottenendo link da altre fonti affidabili. SEM Search Engine Marketing Passiamo ora al SEM, che sta per Search Engine Marketing, ovvero Marketing sui motori di ricerca. A differenza del SEO, il SEM include sia il traffico organico che il traffico a pagamento tramite annunci pubblicitari online. I principali componenti del SEM sono Annunci a pagamento Pay per click PPC Creazione e gestione di annunci che vengono visualizzati nei risultati di ricerca o su altri siti web pertinenti. Gli inserzionisti pagano solo quando un utente clicca effettivamente sull'annuncio. Keyword Advertising Scelta di parole chiave pertinenti e offerte per posizionare gli annunci in cima ai risultati di ricerca per quelle parole chiave specifiche. Remarketing Raggiungere gli utenti che hanno già visitato il vostro sito web con annunci mirati mentre navigano in altre pagine web. Differenze tra SEO e SEM Ora che abbiamo una panoramica di entrambe le strategie, vediamo le principali differenze tra SEO e SEM. Costi SEO è in gran parte gratuito, mentre SEM comporta costi associati e click sugli annunci. Posizionamento Con il SEO, si cerca di ottenere un posizionamento organico nelle prime pagine dei risultati di ricerca. Con il SEM, si paga per avere un posizionamento prominente attraverso gli annunci. Velocità dei risultati Il SEO richiede tempo per ottenere risultati e richiede un lavoro costante nel tempo, mentre il SEM può fornire risultati immediati sin dal momento in cui gli annunci vengono attivati. Durata dei risultati Con il SEO, i risultati possono essere duraturi anche dopo aver smesso di investire in ottimizzazione. Nel SEM, invece, una volta interrotti gli annunci a pagamento, il posizionamento a pagamento scompare. Conclusioni In sintesi, SEO e SEM sono entrambe strategie fondamentali nel marketing digitale, ma operano in modi diversi. Il SEO mirà a migliorare il posizionamento organico del sito web nei risultati di ricerca, mentre il SEM utilizza annunci a pagamento per ottenere una visibilità immediata. La scelta tra SEO e SEM dipenderà dalle esigenze specifiche del vostro business e dalla strategia di marketing complessiva. In molti casi, una combinazione di entrambe le strategie può portare a risultati più efficaci. Ricordate sempre di monitorare attentamente le vostre performance e adattare le vostre strategie di conseguenza per raggiungere il massimo successo nel mondo del marketing online.